eccoci qua una puntata di moto gp in podcast la prima puntata con questo nuovo nome esiste già da tempo e chi segue la nostra pagina lo sapete formula 1 in podcast e poi le live dedicate al mondo della formula 1 noi abbiamo iniziato invece con la redazione in moto gp dopo l'ultima gara del mondiale con uno speciale e proseguiamo invece con questa seconda puntata con un nuovo speciale ma non a fare a non a tirare le somme della stagione ma dare direttamente dei voti quindi facciamo uno step in più oggi con me c'è martina andretta che al debutto nei podcast di moto gp ciao martina buonasera a tutti è una piacevole conferma quella di riccardo orsini ciao riccardo ciao buonasera a tutti bene parlavamo di pagella allora non perdiamo tempo direi subito di andare a vedere i voti che abbiamo dato noi tre alla stagione abbiamo fatto un voto da un dal 10 allo zero e un voto a un a un team o a un paio di piloti al massimo partiamo dai voti di martina li andiamo a vedere con la grafica che sta venendo qua fuori adesso mattina lascio a te la il piacere di dire di leggere la tua pagella bene 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 eccoci qua dunque io giustamente anche prima stavamo parlando con con mattia riccardo sono una persona che tende a dare voti alti a prescindere eh perché non sono cattiva da questo punto di vista ehm quindi come potrete vedere non c'è né l'uno né lo zero perché non me la sentivo di di ammazzare di tirare queste mazzate così forti però partendo dal 10 appunto eh io direi assolutamente il team suzuki chiaramente eh considerando anche naturalmente la performance dei piloti quindi eh facendo una media diciamo tra quella che è stata la moto e quelli che sono stati piloti e come come hanno portato a casa la la stagione quindi sicuramente direi che non c'è neanche molto di cui parlare da questo punto di vista credo che abbiano dato un un segnale molto chiaro ovviamente l'assenza di di markets dalla Honda ha inciso potentemente sul sul risultato che poi c'è stato in campionato anche dal punto di vista del del costruttori naturalmente però ecco suzuki è riuscita molto bene a capitalizzare il team a mio parere si è anche comportato bene con con tutte le le situazioni che si sono sviluppate quest'anno e credo che appunto siano stati molto bravi molto pronti nel nel massimizzare quello che c'era da massimizzare quando andava massimizzato eh quindi quindi direi assolutamente sono sono stati un buon team quest'anno per quanto riguarda il mio nove ho pensato di darlo a Franco Morbidelli che secondo me ha fatto una stagione davvero molto bella molto solida eh ha vacillato pochissimo e ha dimostrato tanto anche magari a chi eh nelle stagioni precedenti non non credeva così tanto in lui o comunque non non lo vedeva come chissà quale pilota eh quindi sicuramente il fatto che abbia avuto queste tre vittorie cinque podi ha influito naturalmente su sulla performance su quella che è stata la la sua stagione e in ultimo ovviamente la la sua classificazione nel nel mondiale piloti quindi assolutamente secondo me Morbidelli totalmente totalmente positivo quest'anno avrei veramente pochissimo da da recriminargli o da criticargli eh per quanto invece riguarda il mio otto ci sono due piloti che sono Mir e Rins ovviamente eh qui forse un pochino sono stata cattiva eh con Joan Mir che naturalmente campione eh però appunto non me la sono sentita di salire così tanto di voto perché sì è stato bravo ha vinto quindi non si può dire di no eh sì è stato costante però io sinceramente non ho mai visto questo grande sploà eh in praticamente nessuna gara da parte di di Mir quindi molto bravo ovviamente complici le situazioni particolari che si sono venute a creare quest'anno è riuscito anche lui a capitalizzare eh però appunto nonostante tutto non mi sentivo di di essere più generosa di così eh più o meno stesso discorso per Rins nel senso che ha fatto secondo me una buona stagione eh è stato sicuramente all'altezza di di quello che doveva dimostrare ha avuto eh quattro po' di totali se non erro quindi è andato bene e secondo me un otto è è un voto che che gli potrebbe calzare. Scendendo abbiamo eh il set che ho dato ad Alex Marquez e a Quartararo eh dunque per quanto riguarda Alex Marquez sicuramente forse ci si aspettava un pochino di più però dal mio punto di vista con tutte le pressioni che possono derivare dal guidare eh la moto che guida o dall'avere il fratello che ha eh non non mi sento di dire che abbia fatto una stagione da da sufficienza o meno della sufficienza quindi eh direi che comunque è riuscito a dimostrare sicuramente qualcosa in più rispetto rispetto a a tempo fa quindi direi intervengo così a gamba tesa però soprattutto il dover fare una stagione di debutto senza il fratello a fianco che eh probabilmente va a essere chi gli faceva la chioccia e che è riuscito poi invece a avere anche nonostante questa una crescita eh in una in una situazione molto particolare dove la Honda non aveva Marquez eh Mark e in cui poi tra l'altro sapeva già il suo destino magari cioè anche questa cosa qua forse va va premiata e fa da e aumenta il valore della sua stagione non credi? Sì 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 concordo assolutamente infatti eh sicuramente i piazzamenti poi non sono fantasmagorici non sono stupendi però direi che ha fatto la la sua figura soprattutto in certe occasioni Marquez quindi direi che un sette se lo se lo può meritare tranquillamente e per quanto riguarda Quartararo eh vorrei ma vorrei dargli di più vorrei potergli dare di più però diciamo che nonostante la partenza a fionda che sicuramente poi anche influito negativamente sulla sua stagione eh non non si può fare un bilancio positivo perché comunque eh siamo appunto partiti tanto bene e poi siamo calati tanto per cui eh direi che eh più più di sette non si poteva proprio fare e appunto sicuramente il fatto di essere partito così bene e un po' questa questo il suo entusiasmo soprattutto anche da parte dei media che l'hanno caricato moltissimo eh probabilmente non gli ha fatto molto bene sicuramente non è il motivo principale per cui la performance è calata però direi che mh un pochino di influenza questa cosa l'ha avuta sicuramente perché eh tutte le pressioni poi in qualcosa in pista si traducono per forza ehm per quanto riguarda poi il sei ho pensato a Maverick Vinales anche se in questo momento ripensandoci potrebbe anche essere sotto la sufficienza eh visto che ha fatto una stagione sotto tono non si non si può dire altro forse la peggiore da da quando è Yamaha e probabilmente sì 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 quindi tra l'altro forse ecco dargli da da buono a Vinales è stata anche la tanta sfortuna e la mancanza di prestazioni date anche dalla moto insieme a comunque una sua natale avevo deludente sì 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 sicuramente infatti eh non nonostante anche qui qualche espload positivo non si può dire che 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 Vinales sia stato forse anche all'altezza di qualcosa che aveva dimostrato nelle stagioni precedenti che non abbiamo visto non abbiamo per niente visto quest'anno e lo dico anche con dispiacere perché comunque un pilota che apprezzo però eh diciamo che eh la performance quest'anno è stata abbastanza deludente e non non ha fatto bene la Yamaha Vignale se non ha fatto bene Vignale se la Yamaha in questo senso direi ehm per quanto poi riguarda la il sotto la sufficienza quindi andiamo sulle mazzate un po' più cattive esatto andiamo a toccare un po' di tasti dolenti eh allora per quanto riguarda il 5 eh io lo a Zarco e a Rossi ehm Zarco perché ha dimostrato in stagioni passate di cosa è capace di come è capace di guidare e non penso che l'abbia fatto in modo particolare quest'anno quindi è una cosa più relativa ad aspettative eh generate da ciò che abbiamo visto in stagioni passate eh fatte da Zarco eh non ha non ha avuto un buon piazzamento in campionato non è riuscito a forse anche a capitalizzare quando si poteva comunque non 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 ha fatto una stagione memorabile eh francamente quindi direi che eh sopra il 5 non non si poteva salire forse si poteva scendere un pochino eh per quanto riguarda Rossi mi dispiace ovviamente penso come a tutti eh dovergli dare questo voto però eh diciamo non non c'era molto altro da dire non c'è molto altro da fare eh purtroppo la stagione è stata quella che è stata una buona partenza e poi eh un po' il il declino nel nulla quindi ovviamente con grande dispiacere ma eh per quanto mi riguarda Valentino Rossi questa stagione non ha non ha fatto più di un 5 per quanto interviene anche la sfortuna che ha avuto anche lui di di avere non pochi problemi di affidabilità il covid insomma anche lui forse se fosse stata una stagione pulita diciamo in questo senso cioè senza per esempio la positività il covid probabilmente sarebbe stato a quel punto sì da dare un voto davvero molto più grave visto la persona che è visto le prestazioni che nonostante tante d'età ci ha ehm abituato a fare durante gli ultimi anni sì 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 infatti sicuramente anche la positività al covid gli ha rotto il ritmo l'ha stoppato e quindi sicuramente non gli ha fatto bene ecco quindi eh questo è sicuramente è una cosa da tenere in conto che eh è aggravante dal punto di vista poi della sua performance ovviamente ma è anche un diciamo eh un problema in meno che ne dobbiamo considerare perché appunto non non purtroppo non non è stata colpa sua quella di di risultare positivo al covid ehm invece il mio 4 in questa stagione va a onda hm anche qui non penso ci sia bisogno di grandi spiegazioni per capirne il motivo eh diciamo che è stata una stagione decisamente sotto tono eh quasi totalmente corsa nell'anonimato si è sentito pochissimo parlare di esploade la onda o di eh cose buone combinate dalla onda in questa stagione ovviamente grandissima grandissima complice l'assenza di di Mark Marquez anzi probabilmente unica complice l'assenza di Mark Marquez eh però ecco il problema qui è che se l'unico punto di forza viene a mancare e i risultati sono quelli che abbiamo visto allora davvero bisognerebbe lavorare di più su tutti quegli altri aspetti che invece eh non non hanno dato quello che poteva dare a un'altra squadra per esempio quindi eh sicuramente onda penso che questo l'abbia realizzato e che e che ci penserà che ci penserà anche soprattutto perché non sapendo eh quando quando effettivamente ci potrà essere un ritorno di Marks sulla scena eh sono cose naturalmente da da considerare con molta serietà a questo punto e invece andando 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 sempre più giù nella classifica arriviamo al tre che do a Rabat perché anche qui non c'è stata performance non c'è stato eh quasi niente di positivo anzi niente di positivo eh di di fatto dal pilota quindi sicuramente gli strascichi dell'incidente di un paio d'anni fa hanno 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 fatto il loro corso hanno creato dei problemi assolutamente però eh diciamo che la la performance è stata davvero scarsa e mi dispiace anche da un certo punto di vista però anche qui eh diciamo che più su di così non si poteva andare eh non non ha fatto niente che che si possa considerare positivo in questa stagione quindi quindi direi che è un voto obbligato. e infine a mal in cuore eh il mio due va ad Aprilia ultima nel nel campionato non è riuscita a dimostrare praticamente nulla eh per cui direi che anche qui mi dispiace ma non non credo che si potesse fare molto altro non credo che si potesse dare un voto più alto perché davvero eh è stata una stagione nera eh nera per Aprilia e e si è visto si è visto davvero tanto si è visto anche una una certa demotivazione nella squadra per cui la cosa sicuramente eh è stata impattante per cui ecco questo questo è quello che che penso e direi che purtroppo Aprilia si merita un voto basso. l'uno appunto non c'è perché eh non me la sentivo di di raggiungere questi picchi di cattiveria non non tipici miei e quindi questa è questa è la mia pagella. Perfetto eh Riccardo tu hai magari qualche commento da aggiungere ai voti di Martina poi comunque avremo un momento di discussione dopo aver letto le tue e le mie pagelle. comunque c'è qualcosa così a caldo da commentare? No. Con Martina diciamo che tanti voti saranno simili perché anche io Aprilia l'ho punita abbastanza mentre i top sono quelli ho messo Morbidelli ho messo Mirren Rins. Eh la cosa in cui contrasteremo molto e dopo con la mia pagella si vedrà è il voto a Quartararo. Io quest'anno Quartararo non me lo aspettavo molto meglio e diciamo che soprattutto dopo le due vittorie probabilmente sia la pressione che è stata messa dai media con il conseguente infortunio di Marquez sia un po' eh lui che comunque si attendeva tanto però secondo me un po' si sentiva anche di essere il vero favorito per il mondiale e ha giocato veramente pesantemente su Quartararo e lo abbiamo visto anche dopo la vittoria a Barcellona che lo ha rilanciato in classifica e lui dopo quella gara è tornato a sbagliare come è fatto dopo le due gare a Jerez. Eh sì in effetti su quello forse davvero Quartararo ha sbagliato proprio il modo in cui l'approccio alla stagione di quest'anno soprattutto forse dopo visti i risultati del 2019 e la mancanza di di Marquez forse si sentiva fin troppo il l'unico candidato l'unico eh capace di emergere da questa situazione. Comunque Riccardo abbiamo le tue pagelle sono eccole qua occupano molto più spazio di quelle di Martina per per via dei due voti in più e vabbè a te a te il palcoscenico. Sì io ho sfruttato tutti e dieci i voti che che ci erano stati dati a disposizione e ho premiato molto Morbidelli a cui ho dato un dieci perché secondo me quest'anno Morbidelli ha fatto una stagione straordinaria. Era l'unico con una moto in versione non 2020 della Yamaha a fine anno è stata la migliore di Yamaha quella con più vittorie ha fatto tre vittorie e soprattutto ha avuto diciamo una stagione di riscatto rispetto ad un 2019 dove ha pagato tantissimo dazio nei confronti di Quartararo che era un rookie che nessuno si aspettava che nel 2019 potesse fare una stagione così. Sì quest'anno anche lui ha detto di essersi sentito l'ultima ruota del carro Yamaha e invece a fine stagione ha dimostrato l'esatto opposto quindi ho premiato questo fatto qua. I miei nove sono per i due piloti Suzuki Mir e Rins perché la Suzuki ha fatto un lavoro straordinario quest'anno Mir è il pilota con più poti ne ha fatti sette con Rins è riuscito a fare tre poti ha colto due vittorie e il primo e il terzo. posto nella classifica piloti è comunque un premio grandissimo sia per la squadra che appunto per la squadra per i fratelli Brivio e poi ho premiato Paul Espalgaro perché cinque poti è il secondo è il secondo pilota insieme a Morbiele aver fatto più poti questa stagione e l'unica cosa che gli ha mancato è stata la vittoria quindi ho ho deciso di dargli nove anche per questo perché in Gappatieme quest'anno hanno vinto praticamente tutti ha vinto Binder ha vinto Oliveira e lui che è stato il pioniere del progetto KTM è rimasto senza vittorie. Poi scendendo sotto dato 8 a Oliveira che secondo me è la rivelazione della stagione due vittorie di grande carattere la prima di Astuzia in Austria sfruttando il duello Spargaro Miller davanti a lui e la seconda invece da autentico dominatore una vittoria diciamo alla Lorenzo partito in testa giri veloci su giri veloci è andato a vincere poi il GP di casa quindi un voto un 8 pieno secondo me il voto che si merita. Così come Miller che alla fine è il pilota Ducati che ha fatto più poti soprattutto quello più costante nella seconda parte di stagione quando le sierarchie erano abbastanza delineate anche per la stagione 2021 quello che è riuscito a gestire meglio la pressione del cambio team è un pilota che nelle ultime 3-4 gare ha fatto vedere che probabilmente è quello che merita di più la Ducati ufficiale il prossimo anno. Poi ho dato 7 a Dovizioso e Nakagami Nakagami perché ha dimostrato grande capacità nel rimanere sempre in piedi è stato il pilota più costante praticamente fino agli ultimi due gare di Valencia e non ho dato un voto più alto perché nelle due occasioni che aveva di fare podio che erano appunto la seconda gare di Valencia e ad Aragon è sempre mancato di lucidità ed è finito col cadere per due errori banali uno al primo giro e uno a metà gara cercando un sorpasso impossibile su Spargarocchi. Al contrario ho dato 7 a Dovizioso che è un voto che adesso ripensandoci forse lui non merita perché comunque la stagione di Dovizioso non è stata perfetta però io ho voluto premiare soprattutto la reazione che ha avuto dopo il GB d'Austria quando il giovedì Ducati lo scarica e lui domenica va a vincere la gara. Secondo me quello fa capire il carattere che ha avuto Dovizioso e che è comunque un pilota che nonostante dei grandi exploit questa stagione è rimasto in corsa per il titolo fino a tre gare alla fine. La sofficienza piena la do ai due rookie altri due rookie della stagione che sono Alex Marquez e Binder e entrambi più o meno si equivalgono nella valutazione del voto sia Marquez soprattutto Marquez ha avuto una crescita costante nella stagione ma nel momento in cui sembrava aver trovato la confidenza maggiore con la sua onda con la stessa confidenza l'ha persa. Dopo il podo di Aragon lui è tornato come all'inizio stagione ha avuto una perda di confidenza un po' dispiegabile per questo non ho dato un voto maggiore e la stessa cosa per cui diciamo dato solamente sei a Binder perché dopo la vittoria a Bernou una vittoria che lo poteva lanciare anche nelle cesarchie KTM è tornato a soffrire e a mancanza di feeling con la moto. Poi la prima insufficienza è quella di Maverick Vignares e nella mia valutazione sono completamente d'accordo con Martina è stato molto deludente e anche lui era un pilota che appena abbiamo saputo che Marquez non avrebbe corso questa stagione era uno dei piloti di punta dei candidati a vincere il titolo e probabilmente ha sofferto anche lui la pressione proprio di questa possibilità e tra l'altro rispetto che questa è un attimo mi sono un attimo perso nel mio discorso La dicevo, ha probabilmente molto sofferto questa pressione e secondo me è mancato molto anche l'esperienza di un pilota che era stato in lotta per il mondiale sia in moto 3 che in moto 2. A Valentino Rossi ho dato 4 si è stato molto sfortunato nella stagione, i ritiri a Valencia e in Austria sono stati emblematici della stagione sfortunata di Rossi ma allo stesso tempo mi ha un po' deluso il fatto che a Barcellona quando era secondo che sarebbe stato un piazzamento importante anche per un'ipotetica lotta al titolo o a Le Mans ha fatto due scivolate molto banali, non da lui, da un pilota di 42 anni con 9 titoli mondiali alle spalle quindi su questo aspetto mi ha un po' deluso. Poi il Covid, i ritiri quest'anno l'hanno ammazzato definitivamente per tutta la stagione. Il mio 3 l'ho dato a Bagnaia perché poteva essere l'anno della consacrazione di questo pilota soprattutto dopo il polio a Misano che ricordiamo è avvenuto dopo che lui era appena tornato nella frattura a Tivi e Perone e invece dopo quel polio lui invece di trovare fiducia l'ha persa completamente la gara dopo è scivolata mentre era prima in testa e ha inanellato una serie di risultati veramente negativi che nell'ultima parte della stagione l'hanno portato a fare 4-0 negli ultimi 5 gare non vorrei che avesse già iniziato a soffrire quella pressione che ha un pilota che sale su una moto ufficiale perché lui nel 2021 sarà compagno di squadra di Miller nella Ducati. Due lo do a Danilo Petrucci perché oltre all'exploit del GP francese ha dimostrato veramente poco questa stagione è sempre stato una delle peggiori Ducati in pista se non la più lenta è sempre stato lontano dai primi nelle condizioni ideali di asfalto e sembrava proprio veramente un pilota completamente irrotta con la moto e con la scuderia l'uno e qui è il punto di collisione con Martina io come ho spiegato prima lo do a Quartararo perché l'ho trovato veramente fuori fase dopo le vittorie che faceva lui faceva una vittoria, si incaricava, faceva la dichiarazione che non pensava al titolo ma secondo me era molto consapevole di essere il pilota favorito quest'anno e puntualmente sbagliava le due o tre gare dopo e secondo me non è stato neanche troppo rispettoso nei confronti di Yamaha perché le dichiarazioni di Quartararo penso che sia il pilota che quest'anno veramente ha scaricato e ha parlato più apertamente dei problemi di Yamaha però guardando i risultati anche lui ha sbagliato tanto perché ha fatto tre cadute molto pesanti quindi se avesse fatto un po' più di me a colpa secondo me sarebbe stato meglio e il mio zero lo do esattamente come Martina il mio voto peggiore lo do a Aprilia lei ha optato per un 2 e io opto per uno 0 perché ho scelto tutti gli slot e Aprilia è secondo me la vera delusione di questa MotoGP è una squadra che da 5 anni questa era la quinta stagione la sesta stagione che era in MotoGP perché è rientrata nel 2015 è rientrata in MotoGP lo stesso di anno di Suzuki due anni prima di KTM eppure non ha mai fatto un vero risultato e questo soprattutto il gap che ha accumulato con Suzuki e KTM mi ha fatto dare questo votaccio alla casa italiana poi anche la gestione dei piloti e Spargarò che prendo un ingaggio da top rider quest'anno ha portato a casa solo 45 punti a fine anno quindi un po' così le scelte direcenziali di Aprilia non mi convincono molto va bene ok e adesso dopo aver avuto ci chiamiamo nei maestri dopo aver avuto la maestra buona che non dà sotto il 2 aver avuto quello spietato che scende allo 0 dando mazzando molto su tutto Quartararò troviamo quello che invece si si concentra a martellare su un caso specifico cioè io in questo caso allora mi unisco agli altri con il 10 perché dandolo comunque a Mir che comunque è espressione di Suzuki Mir non ha convinto forse del tutto come ha detto Martina perché è stato bravo ha avuto la costanza ma ha avuto pochi exploit però in una stagione come questa forse era più importante avere la costanza come Mir che avere gli exploit come quelli di Quartararò e soprattutto per un pilota come lui che da poco in MotoGP che ha avuto un passaggio in MotoGP piuttosto precoce con un solo anno in Moto2 essere riuscito a mantenere i nervi saldi in un campionato come questo sicuramente per me meritava un premio il 9 va io lo do a KTM e a Miguel Oliveira KTM perché bisognava vedere l'anno scorso come che in che stato versava la casa austriaca aveva Zarco Zarco non non riusciva a guidare il box spaccato l'addio di Zarco a metà stagione era facile trovarsi quest'anno in una situazione di di cantiere aperto ma non con delle solide fondamenta ma proprio con un terrapieno su cui lavorare e partire da zero Oliveira come ha detto invece Riccardo è stata la la vera sorpresa di questa stagione lui che anche era arrivato in MotoGP l'anno scorso nel 2019 senza giusto nel 2019 adesso mi è venuto un dubbio mi confermate vero? sì sì perché è Binder il rookie dell'anno quindi Oliveira dovrebbe essere la seconda stagione esatto quello che è arrivato quest'anno è l'ecuona scusate l'avevo completamente eliminato l'ecuona dalla dalla mia mente comunque Oliveira è arrivato l'anno scorso e infatti non l'abbiamo messo nessuno l'ecuona quindi probabilmente si meritava anche un bel una insufficienza abbastanza pesante però soprattutto vedendo Oliveira che l'anno scorso era arrivato in MotoGP senza fare niente di particolare quest'anno invece ha avuto due ottimi exploat che soprattutto il secondo in Portogallo a casa sua lo ha letteralmente innalzato a a fenomeno nazionale Oliveira si merita secondo me un 9 per la crescita che ha avuto stessa cosa a KTM peccato per lei che perde Paul Espargaro ma con questo Oliveira potrebbe trovare una una continuità nel suo progetto cosa che forse come hai detto te Riccardo non si potrà trovare non ci sarà in Brad Binder comunque qualche comunque quanto meno all'inizio del prossimo anno ci sarà qualche dubbio in più l'otto va a Morbidelli perché non volevo non volevo dare più tanti tanti lo stesso voto ha più di un pilota però probabilmente anche lui si meritava un 10 come come Mir Mir ha avuto continuità invece Morbidelli ha avuto gli exploit ha avuto però anche continuità insieme ad exploit soprattutto con una moto che non è la 2000 che non era la 2020 di Yamaha forse per fortuna ma era la moto tra le quattro delle Yamaha quella ben sviluppata e forse è stata la sua croce delizia nella sua stagione lui ha detto spesso di essere deluso da non aver avuto la moto ufficiale ma che forse visto il risultato delle altre Yamaha è stato proprio la chiave del suo successo io do 7 a Suzuki perché Suzuki rispetto a una KTM è da più tempo in MotoGP e ha ha fatto un lavoro costante una crescita costante non ha avuto come KTM un grande balzo in avanti da una stagione all'altra ma ha avuto bensì un percorso di crescita piuttosto costante come detto e che quindi forse fa passare da meno importanza balza meno all'occhio il suo progetto sicuramente da l'aver come team principal Davide Brivio e avere un ambiente rilassato come rilassato tranquillo e unito soprattutto come come si è come si è visto nel corso di questa stagione gli è servita io do 6 a Dovizioso perché Dovizioso si è trovato in una situazione davvero complicata due settimane dall'inizio della stagione si è rotto si è rotto la 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 clavicola nel mototross e e quello rischiava di compromettergli la stagione era già ai ferri corti con con Ducati in Austria è arrivato l'addio definitivo e da lì è stata un una stagione da separato in casa con una moto che dava una marea di difficoltà perché Ducati è completamente cannato la la gestione l'approccio con le nuove gomme di Michelin e per lui aver portato a casa una una vittoria laddove il team il team ufficiale ha fatto spesso dei risultati peggiori del team del team satelliti ovvero Pramac può avere sicuramente merita per me una una sufficienza io da 5 invece ad Aprilia sono molto più buono con la casa di Noale perché forse Aprilia da alcuni test ci si aspettava davvero tanto non aver potuto correre con Giannone forse gli ha tolto tanto forse gli ha tolto poco perché Giannone comunque nelle ultime stagioni non aveva fatto davvero dei grandi prestazioni però si vede comunque nonostante i passi falsi siano tanti la volontà di Aprilia di voler crescere di aver ingaggiato Massimo Rivola che arrivava da Ferrari sicuramente non può essere inteso come una una scelta dettata dal non voler spendere troppo non credere nel progetto MotoGP quindi per me è un finco di incoraggiamento a un team che però come hai detto te Riccardo come ha detto anche Martina pecca di pecca di forse di esperienza e di una scelta di una corrente manageriale che sia ben definita poi andando un po' veloci e se no iniziamo davvero ad annoiare il voto 4 Yamaha Yamaha ha mancato la moto 2020 lo abbiamo visto in tutti i modi con Quartararo è stato l'unico a riuscirci a cavare qualcosa da quella moto è l'ennesima moto sbagliata di Yamaha e per questo preoccupa perché siamo anni che andiamo a parlare di Yamaha a cui manca qualcosa mi manca l'anno scorso nel 2019 era una moto che non riusciva a mandare in temperatura le gomme che scivolava quest'anno invece problemi soprattutto di affidabilità che non ci si può aspettare magari da un'Aprilia da una KTM ma non da una Yamaha che in 20 anni di MotoGP è sempre stata presente il voto 3 va a Honda e io lì inizio ad accanirmi perché Honda quest'anno se poteva fare una scelta le ha fatte sempre sbagliate quelle poche che ha fatto Alex Marquez l'ha mandato via prima dell'inizio della stagione bocciandolo senza potergli dare un'opportunità per dimostrare le sue capacità cosa che poi ha avuto ha dimostrato il suo potenziale in più di una gara ha voluto puntare su un po' l'espargarò che è sicuramente un buon pilota ma che forse potrebbe anche arrivare a cozzare un po' con con Mark Marquez l'unica cosa ha gestito bene Bradel che alla fine è riuscito anche a fare qualche piccolo risultato positivo rispetto vista anche la situazione in cui era per il resto il voto 3 a Honda va sulla gestione di Markets che sicuramente potrebbe essere fatta in maniera migliore il mio 2 va a legare sul stesso circuito allora voglio poi sono molto curioso di sentire anche la vostra la vostra opinione anche di chi ci segue che ne può particolarmente commentare da Facebook che sicuramente leggeremo le idee che ci diranno le opinioni dei nostri ascoltatori comunque io do 2 alle gare sullo stesso circuito va bene passi che la stagione era particolare bisognava fare un numero minimo di gare sullo stesso circuito e quindi va benissimo che quest'anno sia andata così però si spera che non si debba già dall'anno prossimo di tornare a ricorrere a queste a questa soluzione perché Nakagami a parte penso che lo svolgere due gare sullo stesso circuito non piaccia né ai piloti né agli appassionati sono stati secondo me sgamati in in Formula 1 a modificare il layout delle piste dove è possibile tipo Bahrain in MotoGP non c'è stata l'opportunità o comunque non ci hanno pensato e questo forse ha influito un po' anche sullo spettacolo ulteriormente io l'uno lo do al caso Marquez la gestione in generale dei chirurghi che gli hanno dato l'ok e anche dello stesso Marquez che ha voluto davvero esagerare andare oltre le sue le sue capacità già marziane però rientrare dopo una settimana dopo aver subito una rottura dell'omero è davvero troppo e infatti poi le conseguenze le ha pagate e le sta pagando ancora tre operazioni quasi un mese in ospedale e una stagione la prossima che rischia di saltare almeno per una parte per noi italiani può far piacere perché ritorna può essere l'occasione per rivedere l'obizioso in MotoGP che in altro caso mancherebbe insomma Marquez come Honda se quelle poche scelte che ha fatto le ha sbagliate lo zero anche io ammetto che non sapevo bene a chi dare uno zero c'era adesso pensandoci c'era la possibilità di infierire molto su Rabat c'era la possibilità di dare uno zero secondo me anche lì troppo cattivo le cuona io l'ho voluto dare alla commissione medica perché tutto si collega a Marquez ma la commissione medica per anni non ha più voluto esagerare nel far rientrare i piloti ha sempre voluto aspettare e non forzare i rientri dei piloti dopo gli infortuni di questa gravità però il caso Marquez visto che Marquez ha cambiato tutte le carte in Tagobola prima cosa a me non piace questi cambiamenti questi favoritismi che vengono fatti dall'altra parte non può essere cioè le colpe sono tante Honda ha pagato moltissimo il fatto che la commissione medica alla seconda gara di Erez ha dato l'ok a far correre Marquez sono loro che devono fermare i piloti laddove non sono pronti per tornare in pista e secondo me se Marquez è ancora fermo una parte della colpa neanche tanto piccola va comunque a loro io adesso questi erano i miei voti io vorrei chiedervi davvero un parere sulle due gare in calendario sullo stesso circuito bene Riccardo vuoi andare tu o vado io? Prima le donne prima le donne grazie no allora sulle due gare nello stesso circuito io da buona cinica quale sono sempre stata direi questo ossia che magari da tifosi ci dimentichiamo un po' troppo spesso che sport quali la Formula 1 e la MotoGP prima di qualsiasi altra cosa sono dei business e quindi anche in una situazione come quella che si è sviluppata quest'anno si va dove ci sono i soldi si va dove ci sono entrate e quindi nel momento in cui un circuito paga l'organizzatore addirittura per avere due gare su quello stesso circuito ovviamente la risposta della Formula 1 o della MotoGP dipende dai casi secondo me è univoca e quindi sicuramente questo ha giocato un ruolo molto importante poi dal punto di vista della positività o negatività della mia opinione rispetto all'avere due gare nello stesso circuito non è una cosa che amo particolarmente nel senso che per il tifoso diventa un po' noioso perché ovviamente magari anche a distanza di una sola settimana deve vedere di nuovo un layout che ha appena visto deve rivedere curve che ha appena visto e probabilmente anche performance che ha appena visto quindi sicuramente non è entusiasmante per i tifosi sicuramente non lo è per i piloti forse per i team c'è un pochino più di lato positivo ritrovabile nel poter arrivare a conoscere meglio quel circuito e mettere subito a punto delle misure per andare meglio la settimana dopo però ovviamente secondo me i punti positivi si fermano qui ovviamente come dicevo prima è più una questione di business ovviamente in questo caso dettata dalla situazione che si è venuta a creare è stato difficile correre addirittura fuori dall'Europa figuriamoci inventarsi una pluralità di circuiti che oggettivamente era impossibile avere Riccardo sono abbastanza d'accordo su tutto quello dei tifosi secondo me per un tifoso non è divertente vedere la stessa gara su uno stesso circuito a distanza di sette giorni la fortuna probabilmente è stata che tranne la gara di Erez la seconda gara nello stesso circuito ha avuto sempre un vincitore una tipologia di gara diverso che magari ha anche attenuato questo parallelismo sul circuito sicuramente sono d'accordo su Martina sul fatto che tutti i team erano felici di questa scelta in quanto la gara della prima domenica sarebbe servita molto per la gara della seconda domenica basti pensare alla prima gara di Moto3 a Valencia dove Arenas è rientrato in pista rischiando anche di andare a dare fastidio al gruppo dei primi sono utili per la seconda gara la difficoltà chiaramente è stata tanta la situazione Covid è difficile inaffrontabile per tutti Dorna ha fatto un gran lavoro secondo me hanno un po' peccato più che sul fatto di correre due volte sullo stesso circuito di aver fatto un campionato a una sola nozione perché si è corso praticamente sempre in Spagna è stata una scelta un po' sbagliata che ha fatto storciaso a tanti e che il Formula 1 la stessa Formula 1 ha dimostrato che l'area Europa non era poi un grossissimo problema e sicuramente la MotoGP avrebbe avuto tante altre alternative al posto di fare due piste due gare nella stessa pista ecco quello sicuramente tra l'altro qua però rientra anche il fatto che diceva Martina giustamente che arrivano gli interessi gli interessi economici Dorna che è la società che organizza il moto mondiale che invece è proprio spagnola vabbè comunque dovremmo essere riusciti a metterci alle spalle questa situazione sicuramente il team è piaciuto quello è ovvio comunque hanno dovuto fare lavoro in meno che in una situazione normale in una stagione normale avrebbero dovuto fare invece in più sulla situazione invece di Arena a Valencia e Moto3 beh alla fine infatti è arrivata una bandiera nera e non è arrivata per caso tra l'altro se non mi ricordo male è stata la prima bandiera nera dai tempi di Fenati con Manzi nel 2018 sì 2018 comunque vedendo invece sempre guardando le varie pagelle nessuno di noi tre ha dato un voto a Ducati come team e adesso una domanda in cui neanche io so la risposta che però voglio porvi è è un non abbiamo dato un voto a Ducati perché ha fatto una stagione alla fine da sufficienza o appena sotto o perché è stata talmente deludente che forse ci è uscito di mente cioè non l'abbiamo più contata perché ha fatto vedere poco qual è il vostro pensiero poi io nel mentre vi faccio un'idea bene vai Riccardo stavolta parti tu io ti avevo pensato di metterla al posto di Petrucci con il voto 2 io quest'anno anche se ti ricordi nel posto CP del Portogallo sono stato molto critico nei confronti di Ducati più che per la cattiva del tipo si gruppo della moto per come è gestito la situazione del 2020 dopo la caduta di Marte probabilmente Dovizio aveva tutte le carte regola per giocarsi questo mondiale e Ducati ha quasi voluto far di tutto per mettergli i bastoni tra le ruote e questo secondo me influisce molto anche sul pensiero negativo sulla stagione di Ducati perché alla fine Ducati ha vinto anche il titolo costruttore quest'anno quindi sui risultati si può dire che non è stata Mari costante con lo stesso pilota ma è spesso stata veloce con tutti i piloti quando mancava Dovizioso c'era Petrucci mancava Petrucci c'è stata la gara di Bagnaia c'è stato spesso Miller secondo me è stato proprio un problema di gestione il 2 a Ducati è più delicenziale che prestazionale posso riassumerla così sì concordo concordo assolutamente infatti anch'io ho pensato dai mettiamo Ducati ma poi mi sono detta guarda forse meglio di no perché puoi spiegarlo sarebbe stato sarebbe stato un po' complicato io sono assolutamente d'accordo sulle 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 idee di Riccardo riguardo i problemi gestionali direzionali che ci sono stati perché veramente credo che sia stata veramente una gestione povera fatta male e non da una squadra come Ducati o comunque da un'istituzione come Ducati appunto anche nonostante il mondiale costruttori che anche questo è passato un po' è andato un po' in sordina sinceramente non è stato celebrato in chissà quale maniera con chissà quale entusiasmo anche perché appunto la gestione soprattutto della situazione dovizioso nella mia opinione è stata davvero amatoriale sarebbe un complimento sinceramente mi spiace essere così cattiva però davvero non trovo un risvolto positivo nella gestione che ha avuto Ducati di questa situazione quindi il mio voto basso sarebbe stato anche in questo caso più relativo a come la squadra ha gestito la situazione che ha le prestazioni effettive in pista quindi è stato per questo alla fine che ho evitato di inserirla proprio perché sarebbe stato un discorso che avrebbe eluso il discorso campionato e sarebbe andato più nello specifico su altri punti ecco beh io adesso ragionandoci io avrei dato probabilmente qualcosa in più sarebbe avvicinato forse a un 5 o un 4 comunque perché comunque in ogni caso la Ducati è arrivata ha vinto il mondiale costruttori che lo ha vinto come ci ricorda Iuri Albertini con la penalità Yamaha però comunque bisogna dire che Yamaha anche se avesse vinto il costruttori sarebbe stata una vittoria molto particolare perché l'abbiamo detto a parte Morbidelli pochi altri hanno fatto davvero bene e l'ha vinta con la Ducati ma anche se l'ha vinta grazie alla penalità Yamaha comunque ha fatto un risultato particolare che non ci si poteva aspettare visto tenendo conto di come ha gestito i piloti per me l'errore principale di Ducati è stato il dover gestire l'aver gestito in maniera davvero disastrosa questo campionato che era una stagione di passaggio il termine di un ciclo e poter sicuramente gestirlo in una maniera migliore senza fare questa gestione come ha detto Martina amatoriale però forse a Ducati bisogna dare questo come vantaggio sempre Giurghi Albertini che è molto attivo ci ha scritto anche un altro commento lo andiamo a leggere uno quarto è eccessivo avrei dato almeno due voti in meno tre vittorie in campionato prima nel mondiale fino a tre quarti del campionato e ha concluso ottavo in classifica nove sparrerò è troppo tralasciando Lecuona unico pilota KTM non aver vinto non c'era da più tempo di tutti Aprilia 1 dovrebbe tornare in Superbike allora tenendo conto che l'Aprilia ha in mente il ritorno in Superbike mantenendo anche la MotoGP è già tornata con un se non in vesto ufficiale è tornata quest'anno con l'Aprilia RSV1000 ha un problema perché deve Riccardo io mi perdo spesso in questa situazione quindi nel caso mi correggi ha un problema perché la moto che usa nel campionato italiano velocità è un 1100 e non è utilizzabile al momento in Superbike sembra che tra Aprilia e la Dorna ci sia una trattativa per poter far entrare il 1100 in Superbike nel caso in cui dovrebbe essere accettata a quel punto Aprilia dovrebbe rientrare in Superbike giusto? Sì sì è giusto Aprilia vuole andare in Superbike con l'A1100 ma in questo momento Dorna fa un po' muro ecco su poi sul resto cos'è che è le tre vittori in campionato l'uno Quartararo eccessivo vabbè Quartararo comunque ha venuto qualche gara quindi fino a prova contraria forse ha mancato ha mancato il grande passo in avanti però anche lui un pilota che l'anno scorso ha fatto davvero tanta sorpresa ma che però arrivava anche da un periodo in moto 2 dove non aveva fatto sicuramente risultati di grande continuità per quanto comunque non ha fatto male comunque proseguendo direi di andare rimanere in Ducati e io voglio chiedervi visto che soprattutto te Riccardo hai dato un 3 a Bagmiaia le scelte di Ducati sia nel team ufficiale sia poi per le scelte in Pramac e in Avintia per i piloti 2021 come le giudicate voi vorrei partire da Martina però ma allora è una domanda complicata nel senso che faccio molta fatica sinceramente in questo momento ad avere un'idea completa e forse anche congrua rispetto a quello che penso sicuramente per quanto riguarda per esempio Bagnaia non si può dire che abbia fatto una stagione tanto positiva perché non lo si può dire io personalmente forse però sono una maestra buona le avrei dato un voto un pochino più alto ma diciamo che in generale non non mi trovo totalmente d'accordo con le scelte di Ducati nel senso che appunto dal divorzio e quello vizioso e da come è stato gestito a quello che poi è conseguito anche in termini di che pilota prendiamo chi mettiamo al posto di Petrucci eccetera diciamo che non mi sono mai trovata d'accordo ovviamente non è il mio posto giudicare questo tipo di scelte perché non sarei minimamente in grado di farle naturalmente ma diciamo che anche qui la gestione credo che sia stata più dettata da una domanda del genere quali sono le conseguenze sul team adesso che tal pilota è fuori cosa facciamo adesso e quindi secondo me è stata proprio questa situazione di partenza a non essere proprio la condizione migliore per fare un tipo di scelta rispetto a un'altra quindi appunto per esempio riguardo bagnaia io spero vivamente che possa fare bene spero vivamente che si trovi bene e che e che faccia quello che ha fatto anche anche in moto 2 che vada bene che dimostri di essere il pilota che ha già dimostrato di essere assolutamente però ecco sulle scelte di Ducati non ho un'opinione totalmente positiva che ripeto è in questo caso più da tifosa perché assolutamente non non metto bocca nelle scelte gestionali da questo punto di vista Riccardo te come rispondi alla critica sul tuo voto a bagnaia mi sa che abbiamo perso Riccardo no 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 ah no ci abbiamo ok ognuno ha ognuno ha la sua idea ed è giusto così io ognuno ha idea ed è giusto così il il voto che ho dato a bagnaia è dettato soprattutto da una mia delusione dal punto di vista dei risultati dal fatto che è arrivato al top e poi sceso nuovamente in un classifica di un pilota che sembrava in un tratto di un tratto aver perso tutta la confidenza che avevo trovato durante la stagione secondo me il prossimo anno Ducati ha un roster piloti migliore rispetto a quello di quest'anno anche il terzo team chiamiamolo terzo team che è quello a vinti avrà due piloti molto promettenti ha il campione vice campione del mondo moto 2 e quindi Ducati secondo me l'anno prossimo dal punto di vista dei piloti ha guadagnato rispetto a quello che quest'anno la Miller come pilota ufficiale la ritengo una scelta giusta affiancargli Bagnaia è una scelta difficile come Martina dico che io onestamente non avrei saputo cosa io la penso in una maniera forse un po' diversa da voi nel senso che su Miller ha dimostrato in tanti anni di MotoGP di essere un ottimo pilota già nella lontana penso nel 2016 la vittoria ai tempi che era in Mark VDS in Olanda sul bagnato comunque da lì aveva già fatto capire che nonostante avesse delle difficoltà perché ha fatto il doppio salto immediato da Moto3 a MotoGP aveva già fatto vedere di essere un ottimo pilota su Bagnaia io gli avrei dato un 6 perché comunque ha fatto bene ha avuto anche lui non poca sfortuna come più o meno tutti gli italiani nessuno escluso ma rispetto all'anno scorso ha fatto un passo in avanti piuttosto evidente piuttosto marcato sulla scelta di Ducati di puntare su Bagnaia forse sì alla fine è vero in una situazione normale avrebbe potuto aspettare un anno vista la situazione come si è venuta a creare anche per colpa di Ducati come abbiamo detto forse la potevano davvero gestire meglio però vista la situazione è stata una scelta piuttosto obbligata quello che io invece ho grandi grandi dubbi come li avevo l'anno scorso su Alex Marquez che però è arrivato in MotoGP da campione in Moto2 è su Orge Martin Orge Martin Ducati ha dovuto fare i salti mortali perché era legato a doppio filo con KTM e Ducati l'ha corteggiato per mesi Martin prima di avere l'ok prima di riuscire a sciogliere il contratto con KTM e alla fine è stato un pilota che anche quest'anno in Moto2 doveva essere il grande protagonista ed è stato invece probabilmente la grande la grande delusione tra i piloti che dovevano andare a vincere il mondiale e vederlo addirittura in un team Pramac dove quando invece ci sono stati piloti come Marini e Bastianini che hanno comunque dimostrato di più nell'ultimo campionato di Moto2 questa cosa mi fa sorgere non pochi dubbi Yuri Albertini che ci sta seguendo sono molto felice che ci stia seguendo assidualmente mi chiede una cosa in questo caso a me mi chiede se nei voti anche a commissione medica a commissione gara invece sempre scelto pinabili due pesi due misure anche tra categorie diverse che il voto merita allora anche qua propongo di fare un bel giro di risposte io dico che alla commissione gara non si merita uno zero perché comunque con le scelte non è andata a modificare un mondiale intero cosa che invece ovviamente senza volerlo lo ha fatto la commissione medica di sicuro deve essere stata cioè deve esserci un chiarimento e probabilmente ci sarà o c'è già stato tra team e commissione gara e dorna perché alcune scelte alcune sono state assolutamente opinabili come ha detto come ha detto il nostro ascoltatore mi viene in mente la famosa multa a Gino Borsoi la gestione di Masia sempre in moto 3 nel in Austria dove è caduto è rientrato senza guanti lasciando giù ogli ovunque la gestione anche delle penalità nel long penalty che dopo due anni ancora non è chiaro dove quando va ha inserito e forse andrebbe cambiata sempre nei classi minori la gestione dei limiti del tracciato non so come la pensate voi ve lo chiedo e ve lo chiedo infatti vai vai Riccardo ti lascio la parola allora a me dice sull'ultima frase due misure tra gadori diverse la gorge ha sempre cercato di dare delle punizioni quasi esemplari soprattutto ai piloti di moto 3 e moto 2 sempre magari anche a scopo educativo io ho in mente l'episodio di quest'anno in Austria per quanto riguarda i due pesi e i due misure di Martin a cui viene tolta la vittoria perché esce nel verde all'ultimo giro e allo stesso modo a Espargarò a cui non viene tolto il podio nonostante anche lui nell'ultimo giro esca nel verde dopo l'attacco di Miller sono tutte delle piccole dei piccoli episodi che però danno fastidio ai team ricordo dopo l'Austria il grande polverone alzato da Suzuki che persi che non riuscì a salire sul podio con Mir e allo stesso tempo come dicevi anche i long lap penalty mi sembra un po' una penalità messa lì quando non si viene il pilota quest'anno in moto 3 è capitato spessissimo che venissero date già penalty ai piloti a inizio anno se non ricordo male in Qatar alcuni piloti vennero penalizzati di 5 posizioni sulla griglia per il fattore del tempo massimo in qualifica del tempo tra i settori che non deve essere superiore a una certa per cento al giro veloce per non creare traffico e altri piloti a Valencia sono stati penalizzati con un doppio long lap penalty anche questa differenza nella stessa stagione secondo me crea dei problemi e abbassa un po' il volto della commissione gara te Martina sì 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 concordo anch'io nel senso che rispetto alla commissione medica darei un voto più alto però sicuramente la commissione gara non ha gestito e anche negli anni passati comunque una cosa abbastanza frequente non ha gestito molto bene diverse situazioni quindi c'è questa appunto questa sensazione comune che usi due pesi due misure secondo me non è tanto un ragionamento del tipo preferenziale è proprio una questione di confusione interna alla commissione gara naturalmente poi sicuramente dirigere la direzione della gara non è semplice sicuramente ci sono tante pressioni da tantissimi punti diversi come succede per esempio anche in Formula 1 c'è sempre qualcosa di cui lamentarsi ed è per questo che ci sono poi anche appunto i comitati dei piloti e tutto quello che ci va dietro però appunto la commissione gara in MotoGP probabilmente dovrebbe ragionare un po' di più in termini di coerenza interna nel senso che appunto diamo questo tipo di penalità per questo tipo di breccia nel regolamento lo diamo sempre non un giorno sì l'altro no l'altro diamo un altro tipo di penalità perché altrimenti poi è anche una questione di diciamo di bruttezza dell'immagine che impatta sulla commissione gara per colpa della commissione gara per cui naturalmente va contro il loro interesse stesso per cui sarebbe proprio secondo me una questione di maggiore coerenza che probabilmente farebbe sicuramente meglio premesso naturalmente che non è facile fare un lavoro come quello che fa la commissione gara beh quello chiaramente rimanendo però in questione allora il long lap penalty tra l'altro bisogna aggiungere questa cosa assolutamente insieme a essere una soluzione secondo molto usando un termine abbastanza utilizzato ultimamente una soluzione tampone ha un problema grande cioè la mancanza di idee su come combinare delle penalità però il grosso cioè il grande problema il grande punto debole è che non ha una non mi viene in mente un termine migliore che modalità uguale da circuito a circuito non è possibile che facendo log lap penalty mi viene in mente a Barcellona tu sei primo e passi poi decimo o soprattutto in moto 3 molto più indietro e invece in a Brunot tutto ciò invece no lo fai e lo fai rientrando sempre primo cioè tu sei primo rientri primo è stato il caso di Zarco se non mi ricordo male che ha avuto il long lap penalty in Repubblica Ceca e nonostante questo non ha assolutamente avuto poi dei dei problemi passiamo invece ultimo argomento poi ci avviamo verso la chiusura una delle novità degli ultimi giorni è Gresini che rimarrà in moto mondiale ancora per tanti anni ma sfilandosi da Aprilia questo forse va ad abbassare il voto e a peggiorare la situazione che sta vivendo Aprilia ultimamente ma la domanda è forse un po' scontata dove può andare Gresini attualmente attualmente perché l'unica squadra a non avere al momento un team client a parte Aprilia stessa da cui Gresini si sfila è Suzuki e secondo voi si andrà proprio ad accasare su Suzuki o andrà a cercare un'altra un'altra casa magari anche un ritorno in onda che ha come team satellite la sola il solo LCR di Cecchinello che tra l'altro anche lui ha rinnovato con Honda secondo voi dovrebbe andare a schierarsi nuovamente ma è una domanda complicata non saprei onestamente anche perché è molto difficile poi conoscere questi generi di scelte dall'esterno sicuramente andare per esempio verso Honda sarebbe una scelta assolutamente comprensibile così come lo sarebbe probabilmente andare verso Suzuki quindi credo che come opzioni siano entrambe valide e sicuramente sono già state ampiamente valutate o stanno venendo ampiamente valutate in questo momento e direi che entrambe porterebbero i propri vantaggi mettiamola in questi termini sicuramente poi dopo quest'anno la PIL di Suzuki potrebbe anche essere cresciuto e quindi questo potrebbe essere anche un fattore potenzialmente decisivo sì anche anche secondo me le due opzioni per Gresini saranno Suzuki o un ritorno in onda sicuramente diciamo che il fatto che Gresini si sfili da Aprilia sarà l'ho raccolto sicuramente in modo abbastanza felice di Gian Antonio che avendo firmato il contratto per il 2021 con Gresini in moto 2 che ha al 90% la sella pronta per il 2022 in MotoGP e anch'io penso che la possibilità più quotata sia quella di andare in Suzuki già quest'anno avrebbe voluto inserire un satellite in MotoGP è mancata la disponibilità di qualche team ma sicuramente in una moto la dimensione che ha dato la propria forza a Suzuki quest'anno potrebbe attirare un team esperto come quello di Gresini a far propria la Moto Suzuki per il 2022 va bene sono le 19.6 il tempo a nostra disposizione per oggi è terminato vi ringrazio sia Riccardo che Martina per essere venuti e essere intervenuti in questa puntata speciale su Epagelle l'appuntamento con Formula 1 con MotoGP in podcast per il 2021 avremo sicuramente nuove puntate nuovi speciali magari con anche qualche ospite di livello con la Formula 1 anche loro stanno insomma in Formula 1 bolle in pentola più di un'idea quindi continuate a seguirci sui social su Facebook su Instagram e su Twitter ovviamente continuate a seguirci a rimanere aggiornati tramite il nostro canale Telegram dedicato alla MotoGP che trovate tra l'altro il link in fondo a ogni articolo della nostra redazione e ovviamente seguite il nostro sito Formula1 in generale punto com detto questo ciao Martina ciao Riccardo ciao a tutti grazie a tutti coloro che ci hanno ascoltato stasera Riccardo si è mutato impropriamente eccolo qua va bene dunque non mi resta dunque di salutarvi e augurarvi una buona serata e un buon proseguimento sul nostro sito ciao a tutti grazie a tutti